L'ex sindaco rivela di aver ricevuto una lettera dove si minaccia di morte una sua nipotina qualora si ricandedasse alle elezioni, la solidarietà di Selle. Dopo Tidei anche l'ex assessore Leopardo interviene sulle dichiarazioni di Santori relative al presunto accordo per le larghe intese. Santori non modifichi la trama del film. Muore nel sonno a soli 4 anni, tragedia, tolfe, genitori di Mattia vogliono capire se ci sono responsabilità dei medici, la procura di Civitavecchia ha aperto un'inchiesta. Palla a vola un giorno dal derby di Serie C maschile tra Aspe e Cv Volley parlano i presidenti Spirito e Marozza. Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione dell'Alto Lazio. L'ex sindaco Pietro Tidei ha rivelato di aver ricevuto una lettera minatoria dove una sua nipotina viene minacciata di morte qualora lui decida di ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative. Tidei dice di aver già denunciato tutto alla polizia, annuncia una conferenza stampa per domani, ma sentiamo i particolari nel servizio. L'ex sindaco Pietro Tidei ha ricevuto una lettera di minacce pesantissime che prendono di mira non la sua persona, ma, peggio ancora, una sua nipotina di pochi anni. A rivelarlo è lo stesso Tidei che, contattato telefonicamente, conferma di aver ricevuto questa lettera minatoria. «È stato un mio nipote a trovarla sul suo motorino», racconta l'ex primo cittadino. «Nel foglio ci sono minacce di morte nei confronti di una mia nipotina, qualora decidessi di ripresentarmi alle prossime elezioni amministrative. Domani convocherò una conferenza stampa per denunciare l'accaduto pubblicamente, ma intanto voglio dire che è davvero inqualificabile tutto questo». Tidei aggiunge poi di aver già fatto visionare la lettera ad uno psicologo e che questi gli ha assicurato che la lettera è vera e non uno scherzo di cattivo gusto. Dopo questa conferma ha detto di averla portata al commissariato di Viale della Vittoria, dove ha sporto una formale denuncia, e che lunedì prossimo andrà a parlare di questo brutto episodio anche con il procuratore capo Gianfranco Amendola, dato che il magistrato in questi giorni è fuori città. Intanto arrivano già i primi commenti a questo episodio, come quello di Sinistra Ecologia e Libertà, che esprime la totale e incondizionata solidarietà nei confronti di quell'esponente politico i cui familiari sono stati oggetto di gravi minacce. «Siamo indignati per l'imbarbarimento del dibattito pubblico in città. Condanniamo senza remore questi metodi infami per intimorire l'avversario politico. Per quanto ci riguarda, ci impegneremo affinché i contrasti tra le forze politiche, seppur forti, siano ricondotti nell'alveo della dialettica democratica e della civiltà». Intanto continua a tenere banco la firma dei 16 consiglieri comunali che hanno determinato la caduta dell'amministrazione Tidei. Le rivelazioni fatte ieri a Dentro la Notizia dall'ex consigliere della lista civica Ritorno e Futuro Emiliano Santori non è piaciuta non solo all'ex sindaco Tidei, ma anche all'ex assessore ai servizi sociali Enrico Leopardo, presente a detta di Santori nella stanza del sindaco quando l'ex consigliere Dimitri Vitali entrò chiedendo a Tidei di rispettare gli accordi presi con Moscherini. Capiamo quanto non sia semplice, ha dichiarato Leopardo, giustificare il tradimento nei confronti della coalizione, degli elettori e della città, ma ciò non può consentire all'ex consigliere Santori di modificare la trama del film, cambiando il ruolo degli attori e del regista. Il regista che muove le fila Gianni Moscherini ha aggiunto Leopardo, il protagonista Enrico Luciani e i coprotagonisti composti da Cell e Ritorna il Futuro. Per quanto riguarda l'ex maggioranza, ha sottolineato Enrico Leopardo, Tidei ha solo cercato di sopperire all'irresponsabilità e alla colpa di chi non si presentava a consigli comunali fondamentali per il futuro della città. Non contento di aver partecipato al tradimento, ha concluso l'ex assessore ai servizi sociali, ricordiamo al signor Santori che le bugie hanno le gambe corte e che la verità a parole e cifre non tarderà ad emergere. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo nella pagina sanitaria Cittadinanza Attiva e Aslo Roma F in prima linea per sensibilizzare alla donazione degli organi, un tema delicato per il quale l'azienda locale si sta impegnando da anni con diverse attività. Sentiamo i particolari in questa intervista al commissario della Roma F Giuseppe Quintavalle. Cittadinanza Attiva in prima fila, in questo caso per l'informazione, informazione appunto sulla donazione. Sì, abbiamo pensato in questo momento, in questo mese, che è un mese a più di riflessione per le persone, di gettare questo sassolino qui da voi che siete una realtà molto attiva, ricettiva e poi perché appunto avete già varie attività. Sì, a me personalmente questo spazio, questa formazione che ho ricevuto dalla mia associazione mi ha coinvolta molto e quindi sono venuta a fare questo incontro con le persone per dare uno spunto di riflessione. Una collaborazione con l'Aslo che potrebbe appunto proseguire anche magari nelle scuole, proprio per portare nelle scuole l'importanza della donazione. Io non lo so. Adesso sicuramente l'Aslo è impegnata in varie, come avete sentito, io non sono un medico. Ha interesse a un focus più preciso e ben programmato. Io penso che sia importante che si veda qual è il lavoro che c'è dietro a questi progressi della medicina e della scienza perché è importante che anche l'informazione sia corretta e accanto alla sensibilità dell'individuo ci sia anche la garanzia di un impegno e di una professionalità da parte dei medici, insomma, quindi non lo so. Grazie. Prego, arrivederci. E come abbiamo potuto vedere non era il commissario straordinario dell'Aslo Roma F, ma il presidente di cittadinanza attiva che appunto sollecitava per la donazione di organi. Ma cambiamo argomento, si è conclusa bene l'avvertenza dei lavoratori della cooperativa Sorpasso. Nella serata di ieri è stato infatti siglato un accordo tra USB Lavoro Privato e tutti soggetti a diverso titolo implicati nella vicenda. Consorzio Hub, la precedente cooperativa Io Lavoro e la cooperativa Sorpasso. L'accordo prevede il pagamento del TFR, il riconoscimento dei livelli retributivi, il pagamento di tutti gli arretrati dovuti e la piena applicazione di quanto previsto dal CCNL Logistica e Trasporto Merci. E' grande sinergia fra istituzioni e grande solidarietà per la nuova edizione di Teleton, una fondazione che finanzia la ricerca sulle malattie genetiche, tante le iniziative in programma anche quest'anno, con la BNL che apre le porte ai cittadini il prossimo fine settimana. Sentiamo i particolari in questa intervista. Dopo il successo degli anni passati e dopo il successo anche dello scorso anno, torna l'appuntamento con Teleton in una città che si è mostrata sempre solidale. Sì, anche quest'anno la banca sarà aperta il venerdì fino alle 22 e il sabato fino alle 24 per accogliere i versamenti dei cittadini di Civitavecchia per questa grande iniziativa di beneficenza. Una banca che ospita anche una serie di iniziative in questi giorni? Sì, ci sono circa 22 eventi nel territorio, quindi lungo il litorale, da Santa Marinella fino a Civitavecchia, soprattutto a Civitavecchia, e degli eventi in banca sia venerdì sera che sabato durante tutta la giornata. Quindi un ultimo appello appunto ai cittadini? Grazie, venite in banca, vi divertirete, farete una buona azione, e tutti insieme daremo una speranza a chi è meno fortunato. E parliamo del Teatro Traiano, nuovo appuntamento con la grande stagione in scena, infatti domani alle 21 per il turno A e domenica alle 17 per il turno B, alle 21 per il turno C, lo sfascio di Gianni Clementi. Sul palco Nicolás Vaporidis e Primo Reggiani, pronti a immergersi fra i resti accatastati di auto sfasciate in un clima da anni 70 di una Roma degradata e isolata. Passiamo alla nostra pagina del comprensorio e come abbiamo potuto vedere dai titoli di apertura, parliamo ovviamente di una tragedia, è morto nel sonno a soli 4 anni, tragedia a Tolfa dove i genitori del piccolo Mattia adesso vogliono capire se esistono delle responsabilità mediche. Il bambino soffriva di una forma di cardiopatia e nei giorni scorsi era stato visitato dai medici. La procura di Civitavecchia ha aperto un'indagine. Ma sentiamo il servizio. Dobbiamo capire se ci sono responsabilità o meno nella morte di nostro figlio. È più o meno quello che i genitori del piccolo Mattia G, il bambino di 3 anni e mezzo deceduto mercoledì scorso a Tolfa, si aspettano di sapere dall'autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Lorenzo del Giudice ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per ora contro i gnoti ed ha dato incarico al medico legale di eseguire l'esame autoptico sulla salma del piccolo Mattia. Autopsia che con ogni probabilità verrà eseguita entro la fine della settimana e dalla quale prenderà parte anche un medico di parte nominato dalla famiglia. Indagine aperta inizialmente d'ufficio dalla magistratura inquirente ma che ora si arricchisce di questa richiesta avanzata dai genitori che hanno dato incarico agli avvocati Davide Capitani e Leonardo Roscioni di seguire per loro la vicenda, naturalmente dal punto di vista legale. Una vicenda che comincia una quindicina di giorni fa quando il piccolo Mattia inizia a dare segni di disturbi piuttosto evidenti come una febbre che non vuole passare e poi uno strano gonfiore al pancino. Mattia viene quindi ricoverato per alcuni giorni al bambin Gesù dove gli vengono eseguiti tutti gli accertamenti quindi viene dimesso cinque giorni fa con i medici che giustificano il tutto con apnee notturne un problema che si riscontra piuttosto frequentemente nei bambini. Ma i medici vogliono comunque eseguire ulteriori controlli e dicono ai genitori di riportare il piccolo Mattia il 6 dicembre, cioè oggi ma il bambino non arriverà mai perché è deceduto come detto mercoledì scorso. Su tutto questo i genitori vogliono vederci chiaro oltre al fatto che potrebbero essere arrivati in ritardo anche i soccorsi. Secondo quanto appreso dalla stessa procura infatti l'ambulanza che doveva prelevare il bambino sarebbe arrivata addirittura dopo i carabinieri ed il medico di famiglia che i genitori avevano chiamato. L'indagine dovrà quindi stabilire se quel ritardo poteva o meno salvare la vita al piccolo Mattia. Resta da verificare e lo farà l'autopsia se al momento della chiamata al 118 il cuore del piccolo Mattia aveva già cessato di battere. E sono stati arrestati i pericolosi albanesi messi in fuga a fine ottobre dalla polizia di Tarquinia blitz del Nox della polstrada di Frosinone in un covo del Casertano dove è stata rivenuta refurtiva per 600 mila euro. Fra gli ori gli argenti e il denaro rinvenuti potrebbe esserci anche il materiale rubato anche nella città etrusca. Ma sentiamo il servizio. In attesa del servizio cambiamo argomento e ci spostiamo alla Dispoli dove sono state concluse le procedure per l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto finalizzato alla realizzazione della nuova caserma dei carabinieri nella zona del centro civico nei presti della biblioteca di via Caltagirone. La commissione dopo la disamina delle offerte pervenute ha giudicato l'appalto in via provvisoria alla ditta AZ Appalti SRL con sede a Roma. Il promotore del project financing, impresa, spirpe e generali costruzioni tuttavia avvalendosi del diritto di prelazione può ancora adeguare l'offerta a quella della ditta AZ Appalti entro dieci giorni. L'impresa giudicataria che provvederà all'edificazione della caserma a proprie spese acquisirà il diritto di edificare 14.450 metri cubi di edilizia residenziale. A conclusione dei lavori il presidio direttamente collegato alla statale Aurelia a via Settevenepalo mediante un nuovo cavalca ferrovia sarà affidato al Ministero degli Interni. Oltre all'edificio per la tenenza sono previsti alloggi per i carabinieri in servizio presso la caserma e altre strutture residenziali. Questa nuova caserma ha commentato il sindaco Pagliotta permetterà l'ulteriore ampliamento dell'organica e quindi una maggiore presenza dei carabinieri sul nostro territorio. Dopo l'approvazione del progetto per la caserma della finanza avvenuta due anni fa si completa con la procedura per la tenenza dei carabinieri un lavoro iniziato da vari anni che punta a dare sempre maggiore sicurezza ai cittadini attraverso una presenza ampia delle forze dell'ordine. Bene, adesso stavamo appunto parlando degli arresti di due malviventi albanesi che avevano effettuato alcune rapine a Tarquinia il servizio è pronto andiamola a sentire. Erano stati messi in fuga dalla polizia di Tarquinia dopo un concitato e pericoloso inseguimento avvenuto per le vie cittadine scaturita a seguito di un tentativo di furto nelle ville situate nella zona alta della città a poco più di un mese di distanza da quell'episodio da far west i due albanesi sono stati arrestati i malviventi che da subito erano apparsi personaggi molto pericolosi in quella fuga gettarono via anche una pistola rinvenuta poco dopo dai poliziotti che li braccavano ora sono finiti in manette grazie a un'indagine incrociata portata avanti oltre che dal commissariato di Tarquinia anche dalla polizia stradale di Frosinone dove malviventi stranieri peraltro latitanti risiedevano sono stati alcuni indizi sulla BMW rubata a Roma e abbandonata dai ladri nel centro storico di Tarquinia a portare i poliziotti sulle tracce di quegli stessi albanesi finiti poche ore fa nella rete degli agenti di Frosinone le indagini degli uomini della sottosezione della polizia stradale di Frosinone sono partite a giugno quando a distanza di pochi giorni si sono verificate due rapine in danno delle casse forti dell'impianto di erogazione carburanti Shell e degli autogrill situati all'interno dell'area di servizio La Macchia nel comune di Anagni grazie a verifiche tecniche e mediante servizi di monitoraggio e osservazione la stradale ha individuato l'abitazione dei due malviventi nel comune di San Marcellino un vero e proprio covo per l'occultamento della merce trafugata nel corso dei vari furti e delle rapine l'arresto dei due è avvenuto con un blitz del nucleo operativo centrale di sicurezza proprio in considerazione della pericolosità della banda che poteva far uso di armi a seguito dell'irruzione i due hanno tentato inutilmente la fuga gettandosi dal terzo piano sopra una tettoia sottostante durante l'operazione sono stati sequestrati denaro, argenteria, monili in oro oltre a tre auto utilizzate dalla banda in tutto la refurtiva sequestrata è stata stimata per un valore di ben 600 mila euro probabile che tra la numerosa merce rinvenuta possano esserci ori, argenti e materiale vario rubati anche nel territorio di Tarquinia sempre a Tarquinia si è verificato anche il furto di un autogrill della ESSO sul quale gli inquirenti tarquiniesi potranno ora fare maggiore chiarezza e da Tarquinia ci spostiamo a Cerveteri dove i comitati che da tempo lottano contro l'allargamento della discarica di Cupinoro hanno promosso per domani una grande fiaccolata per ribadire le ragioni della protesta no alla nuova Malagrotta no a qualunque allargamento della discarica di Cupinoro no al piano pluriannale della Bracciano Ambiente no al biogas sì alla chiusura e messa in sicurezza della discarica di Cupinoro sì al compostaggio aerobico per il trattamento dell'umido sì all'attuazione immediata del porta a porta su tutto il territorio l'appuntamento presso la sede comunale del Granarone a Cerveteri è per le 17 aderisce all'iniziativa anche il comitato rifiuti zero di Fiumicino ma in queste ore piovono le adesioni fra queste anche quelle della Federazione di Civita Vecchia del PRC concordiamo con i comitati che l'ampliamento della discarica di Cupinoro non sia la risposta adeguata allo smaltimento dei rifiuti di Roma e provincia dicono dal PRC l'esaurimento di Malagrotta avrebbe dovuto coincidere con una decisa svolta verso l'incremento della raccolta differenziata specie nella capitale le ambiguità dell'aggiunta Zingaretti fanno invece pensare che non si stia cambiando rotta rispetto alle politiche fin qui perseguite ancora si individua nelle mega discariche e nell'incenerimento dell'indifferenziato la corsia preferenziale nonostante gli ammonimenti europei e gli esempi alternativi che le grandi capitali europee offrono auspichiamo che i cittadini si mobilitino contro la nascita di una seconda Malagrotta fra i comuni di Cerveteri e Bracciano nella consapevolezza che le mega discariche non vadano realizzate né a Cupinoro né a Numiere né altrove la prima volta fu rappresentata nel 1733 al Teatro San Bartolomeo di Napoli quale intermezzo all'opera seria il prigionier superbo dello stesso Pergolesi e dopo quasi tre secoli la serva padrona debutta a Montalto di Castro e un intermezzo buffo in due parti di Giovanni Battista Pergolesi in programma domenica 8 dicembre alle 18 nel complesso monumentale San Sisto passiamo adesso alla nostra pagina sportiva e area di derby al Palazzetto dello Sport in scena domani la stracittadina di pallavolo fra ASP e CV Volley ma sentiamo i particolari nel servizio dopo domani alle 18.30 al Palazzetto dello Sport torna il derby di pallavolo cittadino valido per l'ottavo turno del campionato di Serie C maschile di fronte ASP e CV Volley i cui rapporti nel passato sono stati spesso tesi ma che ultimamente sono diventati decisamente più cordiali alla vigilia del match abbiamo parlato con i due presidenti delle rispettive società Antonio Spirito ha dichiarato sono convinto che sarà un bel match di pallavolo tutti i ragazzi in campo hanno stima reciproca e si impegneranno per vincere un derby che si è sentito ma non troppo e risposto Viviana Marozza sarà sicuramente un'occasione per vedere una bella gara probabilmente non saremo al completo perché Antonello Tropiano sarà impegnato alla guida della femminile avrei preferito affrontare l'ASP a pieno organico ma sono sicura che ce la caveremo bene anche così il mio pronostico finirà al quinto set quest'anno abbiamo trovato il giusto feeling con la società del presidente Spirito nelle passate stagioni c'era stato qualche problema ora però è tutto alle spalle la convivenza al palazzetto sembra infatti funzionare e parliamo di calcio il Santa Severa si rifà il trucco ed è soprattutto in attacco che la dirigenza Bianca Azzurra è intervenuta con un restyling totale Francesco Brutti è stato acquistato con destrezza e lungimiranza da In San Severini e nelle prossime ore la società di Patron Marchio metteranno a segno un altro colpo sensazionale mister Nello Savino potrà abbracciare alla sua corte il fortissimo attaccante Simone Feola l'ex caninese Focene ha classe pura nelle sue corde lui Brutti e De Angelis formeranno un trittico esplosivo difficile per gli avversari da contenere l'acquisto di Feola come detto è ancora ufficioso questioni burocratiche in sostanza il tutto sarà ratificato prima del match cruciale che vedrà nella tredicesima giornata Santa Severa e Pescatori Ostia duellare nel pomeriggio domenicale al campo Maurizio Astolfi spostando l'attenzione sulla compagnia portuale va fatto notare che entro sabato al massimo si dovrebbe sapere il destino di Stefano Luiso se rimane in sostanza al cospetto di mister in Corvaia oppure saluta cercando poi glorie altrove chi va via sicuramente dal club portuale è la punta Andrea Maisto su di lui è in vantaggio la Cornetto Tarquinia ma nelle ultime ore la caninese di Sperduti ha mostrato interesse per il ragazzo e al via i lavori di realizzazione del primo impianto sportivo per il gioco del rugby nella storia di Ladispoli dopo la consegna dell'area di Viale Mediterranea all'Unione Rugby Ladispoli in questi giorni partiranno gli interventi di bonifica della superficie che ospiterà un campo da rugby regolarmente di circa 190 metri quadrati questa era la nostra ultima notizia ricordandovi l'appuntamento con l'informazione dell'Alto Lazio per le 19.45 qui su Provincia TV io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.